Eccoci qua, abbiamo finito la Couture Dam, vedete il terriccio che è stato messo, il topso è questo, il terriccio, dove semineremo tantissime piante selvatiche, tantissime caminacce di fogli, fogli rossi, borragi, ricordiamo che siamo in Sicilia, quindi non si può riuscire a qualsiasi cosa tendenzialmente, diventerà tutto verde qua, in modo che essendo tutto verde, cosa succederà? Che praticamente quando arriverà l'acqua, perché questa raccoglie anche l'acqua piovana, e in questo caso viene alimentata in due modi, una attraverso l'acqua piovana, attraverso lo scorrimento della piovane, seconda dall'acqua del pozzo attraverso una bomba, che riempirà una swale a monte che è collegata a questi canali qui, che vada ad alimentare questo laghetto, quindi tutta l'acqua, alla fine, passerà per tutto il terreno e arriverà qua. Il sistema d'acqua non ha chiaramente il discorso delle swale, non esistono. Il sistema d'acqua non ha chiaramente il discorso dell'acqua, il sistemaòng di controllo dell'acqua.